Nella seconda guerra mondiale, ricorda l'odissea dei poveri soldati tornati a casa dove portava tutto sul fronte greco-albanese, i quali però non avevano il tempo di posare il proprio zaino perché furono subito destinati alla Russia. Gli alpini partivano con una tristezza nel cuore sapendo di andare in punto alla morte ma mai avrebbero cambiato le loro persone, i loro valori. La penna sul cappello, lo zaino a fardellato, l'albino è sempre quello. Nella fondazione di Agostino D'Overo, da Udi siamo partiti. Da Udi siamo partiti, da Udi siamo passati. D'Overo, da Udi siamo passati. Ci tocca di partire con la tristezza nel cuore lasciando l'amorosa con gli altri, con gli altri a fare l'amore. Ci tocca di partire con la tristezza nel cuore lasciando l'amorosa con gli altri a fare l'amore. Gli alpini partire con gli altri, con gli altri a fare l'amore. Gli alpini partire con gli altri, con gli altri a fare l'amore. Gli alpini partire con gli altri, con gli altri a fare l'amore. Grazie. 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 Grazie.